Allora, questo è il live Giovanni, benvenuti a tutti, vai regia con la prima canzone, vai! Allora, questo è il live Giovanni! 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 Il live Giovanni! Allora, questo è 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 il live Giovanni! Okchodzi! Allora, questo è il live Giovanni! Allora, questo è il live zoo? Questa è ovviamente una delle canzoni più nuove ovviamente di tanto tempo fa Tanto tempo fa ovviamente e adesso andiamo a ascoltare Bob Marley Grande richiesta di Affonza Zito Questa era ovviamente una delle canzoni Adesso Bob Marley Grande richiesta di Affonza Zito Buon ascolto anche a te Affonza Su Radio Torre Ribera E a breve farò la trasmissione su Radio Blue Emination di Lucio Mazzotti A breve farò la trasmissione su Radio Blue Emination di Lucio Mazzotti Buon ascolto anche a te Affonza Zito 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Buona ascolta Fonza Con la prossima canzone Vai regia! Grazie a tutti! Siamo ancora in diretta dal nostro radio track di Radio Torribera Fine febbraio faremo la diretta da qui Il nostro speaker sull'app di Spreaker.com Registratevi questo numero 0925-G1593 Permettisi in contatto con noi Eppure 3-3-3-29-84-518 Permettisi in contatto con noi Adesso Africa E toc toc Grazie a tutti! C'è anche il nostro email Ovviamente di Radio Torribera Che è Radio Torre Chiossola in Wind.it Fine febbraio faremo una diretta Su nostro speaker Solo se avremo nostri potenti mezzi Per trasmettere in diretta Proprio su Spreaker Su Radio Torre Ribera ovviamente Spesato un po' E questo era ovviamente Il tutto con Africa Adesso finiamo la nostra trasmissione Con Baby Blue Vai regia Con la prossima canzone Vai regia Con l'ultima canzone Arrivederci E ci vediamo Alla prossima puntata Questa è la mia prima diretta Su Spreaker.com Con Live Giovanni E anche con Lucio Mazzotta Con la sua trasmissione Radio Blue Emination Ritorneremo In diretta Dal Sua postazione ufficiale Lunedì Pomeriggio Dalle 16 in poi Su Radio Blue Emination Su Spreaker.com Su Lucio Mazzotta Adesso Vi lascio in ascolto Con l'ultima canzone Vai regia All that time Without a word Ciao Lucio Ci vediamo lunedì Fa mezzo Dalle 16 e 13 in poi Sulla tua radio Radio Emination Blu Radio Blue Emination Nella tua trasmissione Nella tua diretta Ci vediamo lunedì Nella tua postazione ufficiale Dalla postazione Sogno di Giussi E' tutto Alla prossima Ragazzi Ci vediamo E ci vediamo Lunedì Pomeriggio Sempre sui 100 e 300 E 96 Vi ricordo Che a lunedì Ovviamente Fine febbraio Faremo Una diretta Speciale Dicata ovviamente A Cannevale Allo Fritz Che faremo A sorpresa Che devo dire ancora Buon ascolto Con i nostri Salapas Band Con il Gisela Ambrosio Laukislandi Madame Ionchi E' la Salapas Band Antico Morina Diretta da Sanremo Un bacio a tutti Ciao Caterina Ciao Mimmo Ciao Media Vita Cappelli Regime Sirex La tarda parte del vetro Ciao Alla prossima Ciao Con l'ultima canzone Ciao Ci vediamo lunedì Pomeriggio Dalle 16 e mezza Dalle 16 e 30 Circa Su Radio Blue Amination Di Lucio Mazzotta Ciao Alla prossima Dalle 16 e La tarda parte del vetro Ciao Ci vediamo Ciao